E' bello di scuole e perciorini benvenuti in questo nuovo video, ci sono stati speciali di tetanashax Oggi siamo qui su Overwatch nella 1 contro 1, meglio, sono 100 1 contro 1 E vedrete quanto sono forte e contemporaneamente quando sono un hub Perché se incontro uno forte, sono un hub Se incontro uno debole, sono OP, quindi vediamo che incontro Se è uno forte o uno debole E vedremo Pi, 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 pi Dai, ricerca appadita in corso Perché dobbiamo aspettare 35 anni per trovare un uno, uno, uno E si perché si aspetta tanto Una persona, devi trovare una persona Oh, ma c'è la miseria Per un base Antartide Perché quelli stupidi Ha senso proprio Non ha senso trovare Con simmetra Io la perdo sempre Perché non so Può usarla sta qua Non lo so Ho poi negato Con simmetra Dove sta Quindi vado direttamente a morire Perché tanto non la so usare Non perdiamo tempo Dove sta Qua a camperare quelle cose No Eh là Eccolo Più 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 Tu vieni qua Vieni qua Sì Ho vinto Come ho vinto Non ci posso chiedere ho vinto Vinto Come ho fatto Non ho mai vinto Mi si mette ragazzi E' una Delle pochissime volte Ma C'è la prima veramente Che vinco con simmetra Che cazzo Eccola 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 Troc'è Troc'è di merda No Che stupida Io ho sbagliato Nel tempo così Però GG Massacrata male Massacrata male 2-0 Anzo Namu con Anzo Namu Namu con Anzo Namu con Anzo Namu Namu a prendere le mazzate Volevo dire C'è no Non altro Ah Eccolo Eh 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 No No Ah Guardate quanto son Siamo cesse ragazzi Non ci parliamo Manco Per Per striscio Cioè Ci diciamo proprio Che schifo Non dico che Dobbiamo Un bel Gli headshot Però Almeno a colpirci Ci siamo solo a scambio Scambio di posto Oh Copito Uh E chi sono io E chi sono io Gesù GG Winston Va bene Va bene Andiamo con Winston Combattiamo Pi Uh Non è andato L'ho visto volare Non lo vedo Ah eccolo Wi No Aspetta Qua Vieni qua Vieni qua Qui qua Ficchiamoci Ficchiamoci male Ficchiamoci Sì Sempre io vi Sì 4 a 0 Lo sto martoriando Reinhardt Contro Reinhardt 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 Combattiamo Pfff Ho sbottuto la testa Namu 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 L'ultima vittoria Faccio 5 a 0 5 a 0 Wow Wow Oh colpito Disciato E ora di andare di cacchio duro Perché lui Sì Oh Bastardo Ah il Winston No No Non dobbiamo andare così Però così sì L'ho scacciato Sì 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 Quanto sono forte Ciao Gigi 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 Prendiamo l'azione migliore delle partite Perché ovviamente bisogna sempre vederla Ragazzi mamma mia Mi sa che ne farò un'altra perché è durata pochissimo Durata 2 minuti ragazzi Quindi ho po' Cacate E ragazzi Aspettate Faccio l'ultima Faccio questa Aspetto che carica Che entra Poi Gigi Prendiamo l'azione migliore delle partite 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 Grazie a tutti.